Salve ragazzi, siamo qua nel terzo episodio di Il Tesoro del Triangolo e per sfortuna, per un piccolo incidente, la nostra lava è diventata ossidiana come potete vedere, questo cubo di merda poteva restare lava, però... Ma colpa tua che apri il cazzo di cubi? Vabbè, allora adesso, visto che non abbiamo più lava, dobbiamo per forza giocare così, abbiamo espansa, se si può dire così, la casa, quello che abbiamo potuto fare con gli ultimi cubi di cobblestone Tu che problemi hai con la testa? Non so, vabbè Come potete vedere, infatti, non ho detto niente, abbiamo fatto offline, abbiamo ricoperto un attimo di cobblestone e abbiamo preso la terra per poi magari fare le coltivazioni più in là E niente, abbiamo fatto solo questo, abbiamo messo a posto la casa, abbiamo fatto le dieci scale cioè queste qua sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 poi più due che mai sono uscite fuori in più da quelle che si dovevano craftare visto che ne craftano tre alla volta e boom, penso che sia tutto, no? facciamo partire dalla musica che mi piace ok eeeh niente penso che si potrebbe adesso andare a esplorare, cioè mi pare di avervi detto tutto quindi possiamo andare in un'isola diversa andiamo con quella di fungo, che dici? ok vabbè, andiamo lì a destra ce n'è ancora un'altra sì sì, ho visto anche ho fatto partire il timer sta andando a fuoco quella a destra è perché c'è la pietra lì, quella lì che brucia sempre ovviamente sì sì vuota di sicuro dovremo scavare sì, per quanto dobbiamo scavare ma poi comunque qua ce n'è di terra, quindi non c'era anche una roba di fare un fungo rosso che gigante sì sì, dobbiamo farlo lo spacco il fungo, sì sì, spacca, spacca vediamo cosa trovi qui si trovano funghi quando spacchi così mangiamo magari quello che si può comunque mi sono già rimasti solo quattro coscelle e allora ti suicidi dopo al caso faccio io, prendo io l'esperienza se vuoi o la prendi te, vedi te per fare l'obiettivo del livello 10 ho 19 funghetti per fare la mini extreme meno 4 11 ormai non potevo prendere questi questi si ok adesso dovremmo scavare c'è uno spawner di mostri ferro io non c'ho quale piccone ce l'ho io tranquillo io pieno di spawn si o no rompiti aspetta allora un po' io prendo io l'esperienza così ci mettiamo poco subito aspetta, stai fermo? livello 8 livello 6 dai prendo la terra non spaccare i mob spawner li spacco io per cui c'è pure un mob spawner di creeper non lo scavare più di qua qua è già al massimo allora qua c'era solo ferro spacchiamo questo 8 9 io sono 9 e mezzo e niente c'è allora saliamo e niente andiamo nella prossima isola facciamo quella la quella lì che che è strana cioè non sembra che ci sia niente sopra neve sembra boh ma la neve l'abbiamo fatta prima quindi ah è sabbia si è sabbia no argilla argilla questo rumore del cazzo cosa fanno? oro oro scheletri si ho notato ecco lo spawn dei scheletri ma adesso mi viene un dubbio ma oh cazzo ma la è un porco porco zeus aspetta devo prendere la spada e aspetta che rompiamo i cosi di zoccoli ok livello 10 lo spacco io sta lì vicino 11 mi ha fatto l'obiettivo l'obiettivo sbloccato mille g 2 4 mia no ce l'avevo dentro non l'ho inventato e prende la ah la prende un altro mob spavola ma comunque ho trovato le cioè ci sono le pozioni della per arrivare cioè per l'esperienza quindi buttarle per terra dai buttarle 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 buttiamo dopo per dire tu stai per morire di fame buttiamo quelle lì dopo 12 quasi 13 allora ci abbiamo 4 pezzi d'oro qua facciamo la torricella come l'hai fatta te e andiamo in quella del fuoco dai siamo già a 4 isole adesso eeeh no aspetta si si 4 più questa saranno 5 in tutto sono 13 però mi sembra meno boh un muro di terra gigante terra? si o legno che vedi che legno possiamo prenderlo ah guarda là in fondo c'è scritto il tesoro del triangolo che figo cioè il triangolo non lo leggo però è perchè là in fondo dove c'è il muro alla fine della mappa se guardi là in fondo c'è sul eh si vede lo eeeh magari tu non vedi ancora lontano c'è il render distance passa magari oh sento dei ragni togliamo sto fuoco oh che cavolo è successo abbiamo un problemino aspettate un attimo vediamo se riusciamo veloce no vabbè eeeh niente continuo da solo vabbè intanto continuo da solo poi vediamo cosa succede andiamo a morire uh diamante che bello oh cazzo eh cazzo no 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 non muoio non muoio non muoio non pure non muoio non muoio ma resta lì sotto quel ragno un coglione oddio mori, 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 mori non è morto ok però perchè non c'è niente da mangiare oh cazzo questo coglione che è oh cavolo oh no 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 non fare quello che vuoi torniamo a casa, torniamo a casa, torniamo a casa, torniamo a casa torniamo a casa scappa, scappa, scappa scappa non possiamo morire così proprio lui che ci serviva aiuto no non devo morire così io scappo me ne vado stai lontano stronzo meglio scappare perchè non voglio perdere gli oggetti che ho adesso tipo la cosa che io non vorrei che succedesse che in quel punto lì adesso ci fosse un creeper che ci aspetta perchè c'è che mi aspetta perchè tipo mi incazzerei troppo oh muoviamoci 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 ok ok non c'è nessuno che mi aspetta andiamo muoviti a scendere ok tutto ormai il livello 10 ci siamo arrivati ok io mi succederei pure ma c'è il fondo cos'è questo? pietro si è pietro ok ok vabbè ma almeno ho tutta la vita prendiamo la spada il piccone il piccone rotto quasi e niente allora ho preso il piccone carbonella c'era da fare un po' di carbonella per fare il piccone di ferro per fare il piccone di ferro per fare il piccone di ferro noi velocizziamo velocemente velocizzando tutto il resto che bello dire cose senza senso lì è un'isola una abbiamo fatto quella 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 la quattro stavamo facendo la quinta che è di la più o meno poi c'è questa la sesta settima poi boh non cazzo c'è più nient'altro muoviti a cuocere sto legno che diventa carbonella ok il mio cotto e cuociamo anche il ferro facciamoci il piccone e proviamo a non perdere eeeh di mangiare non c'è un cazzo eeeh di mangiare non c'è un cazzo cazzo faccio che idiota cazzo faccio mettiamo via questo vi direi di provare ad andare a attaccare quei idiota aspetta vorrei fare un piccone velocemente che no che altro posso farlo anche un pedro cioè non lo abbiamo abbastanza o oppure senso un altro in questo questa pedra si può prendere ok devo per forse chiudere in terra è il posto più brutto che ci sia però devo farlo no aspettate veloce ok è successo quello che doveva succedere mi dispiace non ho mai perso niente è molto utile che ci doveva per forza servire che succede? che succede? mi ha crashato il computer sei ancora registrato? sì sì ok io sono morto io sono morto torno là aspetta che oggetti ho dentro? niente solo qui qua possiamo andare in quell'isola a finire pure questa persona ma tu sei andato sull'isola quindi? ah credo che sei morto è uscito uno cazzo di due ragni sì infatti tipo dopo che sono usciti i ragni ho attaccato un po' e dopo sono scappato perchè vedevo che avevo poca vita e non volevo perdere la roba che aveva dovevi roba importante? roba che mi metto dietro metto dietro allora lasciami prendere una roba se no aspettiamo aspettiamo un attimo di 20 giorni ok no se no tocchiamo anche tante tante cose già giorno vabbè piove quindi non li fa niente neanche gli schieri ma ci sono due zombie infatti eh? erano zombie e erano ma prima c'era una scheletra cioè almeno io ho visto una scheletra ma c'erano c'erano zombie che sono fatta male beh io ormai mi sono suicidato prima perchè avevo tanta fame e poi era morto quasi ma avevo niente neanche gli schieri guarda mi spengono che ne so? vedi i tirani mi spengono vedi i tirani mi spengono vedi i tirani mi spengono e te mi dice che non c'è quella mia arma? è chiuso il ferro ma c'è chi? eh? 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 hai culto il ferro? si si vedi? ti sei fatto il ferro? eh ma non ho preso il piccone perchè non ero sicuro che magari poi morire ho capito eh? poi nel caso dopo lo vado a prendere ahhhh vedi che man e non lo vado a chi c'è via la cazzo la cazzo la cazzo la cazzo ecco l'ho sentito, non ho perspavuto il scherito oh cazzo guardi non c'è finita altro, non c'è stavo volando via x step quindi c'è strancio, ok dove stai facendo? ah ecco il mob spazio ho trovato una cazza io invece con una leva bello ho visto che di la era un po' più aperto, dove era? ok vabbè penso che si potrebbe andare a prendere, cioè a mettere via la roba magari fanno le volte andiamo prima nell'altra isola veloce ok quella è lì illuminata con i cosi già che è vicino alla casa si si abbiamo trovato la prima leva e il chiamato non è quella? fordichello non abbiamo un cazzo di tempo non abbiamo un cazzo di tempo e poi arriviamo all'isola e sono venuta ok vabbè è cresciuto ancora un albero a caso no e vedo dal foglio è volante è volante non è volante non è volante niente ragazzi questo è tutto per questa puntata scusate il problema di mantis no soprattutto non abbiamo perso quasi niente l'importante cioè quasi niente penso niente e no vediamo proprio ma ho già la lama c'è il secchio perdono ecco vediamo il secchio bellissimo ok abbiamo risolto anche la lama quindi possiamo espandere la casa e niente questo è tutto per questo video ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao